Partiamo dal primo gol, come hai detto? Allora, dal primo gol un po' sinceramente personalmente mi ero demoralizzato, ho detto qui prendi all'imbarcata così, invece alla fine dall'inizio subito dopo il gol ci siamo messi a giocare come sappiamo fare noi e abbiamo ribaltato il risultato. Delle tue due parate, qual è il secondo tempo, qual è il secondo tempo difficile? Quella, la prima secondo me, quella sul colpo di testa che lì in anticipo ero messo bene e l'ho presa. Però la differenza forse è stata la grinta, la cattiveria, l'intensità che là probabilmente non c'era vista perché forse ci credeva, visto in secondo tempo come stava andando avanti che fosse più facile venervi a capo, oggi che si sapeva che invece sarebbe stato difficile poi invece è diventato facile, però intanto ti avevi impostato mentalmente in un certo modo. Questa deve essere stata la differenza. Sì, questo sicuro. Lunedì ce l'ha detto anche la settimana il mister, abbiamo giocato, abbiamo mossa bene come sempre, però siamo stati poco concreti, poco cattivi. Forse ci è mancata quella scintilla della partita importante come era quella di lunedì, per oggi, che anche questo ovviamente era una partita importante, siamo stati bravi noi a chiuderlo oggi.